La legenda narra che chi la possiede può prendere il destino dell'umanità nelle proprie mani e condurlo verso la realizzazione del bene e del male. Io penso questo, che sia stato Dio stesso a volerla nelle nostre mani perché tocca a noi vendicare il salvatore eliminando i colpevoli, ovvero il popolo che lo ha condannato a prendere il destino. Se è Dio ad essere dalla nostra parte, chi sarà mai contro di noi? Dio stesso a volerla, chi sarà mai contro di noi? Dio stesso a volerla, chi sarà mai contro di noi? Dio stesso a volerla, chi sarà mai contro di noi? Dio stesso a volerla. Dio stesso a volerla.